Parliamo adesso dell'accanimento terapeutico. È una fattispecie che si verifica spesso, sulla quale ci sono delle opinioni contrastanti. Quindi, secondo loro, non va applicato un trattamento sanitario quando la medicalizzazione eccede alla qualità della vita. Tali terapie, infatti, pur allungando la vita del malato, sono lesive della dignità dello stesso e possono essere non accettate. Infatti, la cura viene definita tale, quindi si parla di cura, quando produce un risultato. Se la cura non produce alcun risultato e la si vuole continuare, lì siamo in presenza di un accanimento e non di una cura.